Salve a tutti. Riguariata una delle domande che mi frulla di più per il cervello, ma credo di non essere l'unico, è questa. Perché? Perché avrebbero dovuto mentirci sulla forma della Terra? Ma soprattutto, perché c'è gente che arriva a crederci? Diciamo che le strade sono due. O persone che credevano in teorie del complotto varie sono arrivate alla Terra piatta esplorando vari complotti. Credo che questo sia stato il punto di partenza, oppure varie persone si sono lasciate persuadere dai video dei terrapiattisti e poi hanno accolto molte altre teorie del complotto. Neurandrome dice che un complotto tira l'altro, ma c'è una ragione. Grosso modo il complotto di cui si parla è uno solo, quello del nuovo ordine mondiale, ci sono molte versioni di esso, ma in pratica è una teoria unificata di come funziona il mondo e chi comanda il mondo. Infatti ad esso sono collegati altri complotti come sci e chimiche, in certi casi rettiliani, o vegani, eccetera. L'idea del nuovo ordine mondiale secondo la mia opinione è un fondamento reale, cioè la globalizzazione neoliberista di stampo americano e imperialista. I complottisti possono anche azzeccarne qualcuna, almeno in parte, perché tentano di spiegare, a modo loro, il processo di globalizzazione che sta avvenendo. Che la globalizzazione esiste c'è poco da discutere. Si tratta solo di essere d'accordo o in disaccordo. Cosa c'entra la Terra piatta? Ma è ovvio, anche se non ci sono arrivato subito, se la Terra non è un globo, ha senso parlare di globalizzazione? La prima cosa che mi verrebbe da dire è che al posto di globalizzazione potremmo usare altri termini. Come mondializzazione o internazionalizzazione, però magari questi ultimi possono avere delle sfaccettature diverse. E allora cosa cambierebbe se la Terra non fosse un globo? Beh, grosso modo i terrapiattisti, se avessero ragione, farebbero crollare una delle immagini simbolo del potere dominante. L'idea del villaggio globale di Nkluan dice, perlomeno per come l'abbiamo recepita, che siamo tutti uguali, tutti equidistanti dal centro della Terra, il globo non ha centro né periferia, eccetera. Questo perché la globalizzazione non si presenta come un processo che accentra le ricchezze nelle mani di pochi e che aumenta le disuguaglianze. Ma un processo che ci rende tutti uguali, che distribuisce i diritti e le condizioni di vita a tutto il mondo. L'immagine della Terra piatta invece dà l'idea che il mondo abbia un centro e una periferia, e guarda caso vicino al centro ci sono gli Stati Uniti e l'Europa. L'immagine che abbiamo del mondo può influenzare l'immagine dell'uomo. Basti pensare al fatto che nel Rinascimento l'immagine della Terra al centro dell'universo era fondamentale per la mentalità seconda cui l'uomo fosse al centro del creato. Però i terrapiattisti fanno l'errore di credere che confutando il concetto di globo si possa eliminare la globalizzazione, per cui accamirsi con la NASA dicendo di essere collusa col potere non mette in discussione nessun aspetto della globalizzazione neoliberista. Piuttosto che criticare il sistema economico vigente, le multinazionali, le banche, i governi e via di seguito, i terrapiattisti hanno iniziato una crociata contro la NASA e la scienza che distrae dai veri problemi. Quindi se volete contestare il sistema cambiate strada. Un tempo i complottisti si occupavano di criticare, a modo loro, le banche, le multinazionali, i governi. Poi sono passati al fanatismo religioso, all'odio verso i gay, verso gli immigrati. Oggi invece oggi parlano di terra piatta, vaccini, montagne che non esistono, mettendosi in ridicolo ancora più di prima. E se c'era un fondo di verità in quello che dicevano ora la loro credibilità è compromessa. A queste conclusioni è giunto anche il genista mentale, che è un sostenitore della terra piatta. Se vi siete persi il video andate a vederlo. Spero di essere stato chiaro, per il momento è tutto, alla prossima.